Ma delle gambe gonfie e caviglie gonfie è un problema che accomuna quasi tutti spesso succede alle persone che stanno o troppo sedute o troppo in piedi anche questo fa fatica automaticamente la pressione venosa arriva diciamo al massimo dove c'è la caviglia e quindi questo inizia a far aumentare il gonfiore alla caviglia e di conseguenza le gambe i liquidi non riescono a drenare in maniera corretta attraverso il sistema linfatico si provoca appunto l'edema e che stiamo andando verso la stagione più calda anche la calura estiva contribuisce ad avere questo problema perché dilata come abbiamo visto nelle storie precedenti i vasi sanguini i rimedi contro il gonfiore alle gambe ce ne sono parecchie e in questi giorni ti racconterò i pro e i contro di come migliorare i rimedi indipendentemente dai trattamenti che facciamo qua in istituto indipendentemente da quello che io faccio qui attraverso il mio metodo però voglio darti dei consigli utili da fare già a casa indipendentemente dai trattamenti che faccio qui attraverso il mio metodo il mio metodo è un'attività che ti raccoglie il mio metodo è un'attività che ci raccoglie per chi è un'attività che lo ha mai